Alberto Elia torna dalla trema, risale in a due, dal Galatina all'Impavida, ma tanta storia passata tra uno e due e tanta, tanta qualità. Alberto, piccolino, 2,05, soltanto potevi crescere un po' di più, venire a Ortona all'età di 36, giusto? 36, che cosa vuol dire per te? Cioè ricominciare un'altra storia? 36 anni, freschi freschi, ti ringrazio, mi fai sentire un po' vecchio, però effettivamente sono arrivato a un punto di bilanci e quindi a questa età ogni scelta è chiaramente ben ponderata, come quella di decidere di tornare in un campionato duro, competitivo come l'A2, in una piazza storica come Ortona, quindi sicuramente questo connubio non è un caso, è frutto di una mia precisa scelta, volontà, quindi sono determinato qui a dare il mio contributo in termini di esperienza, in termini di fisico, in termini di qualità, insomma tutte le armi che ho a disposizione le voglio mettere sul campo qui a Ortona e sono curioso, sono curioso di vedere quello che questa squadra potrà realizzare e sono ansioso, insomma, di iniziare. Sono curioso anch'io, anche perché è una squadra completamente nuova, però hanno messo insieme parecchi tasselli di spessore, di qualità e secondo me potreste fare veramente bene, anche perché il mister Nuzio Lanci è uno collaudatissimo, lo conosciamo bene. Sì, lo penso anch'io, lo pensiamo un po' tutti noi giocatori che abbiamo avuto occasione di parlarci nei due giorni scorsi, come tutti sanno, ovviamente è chiaro che la squadra è stata costruita in un secondo momento, però sono state fatte delle operazioni, secondo me, oculate, fatte con un senso e quindi i valori sulla carta ci sono, come sempre staranno a noi poi dimostrare sul campo le nostre qualità e quindi riuscire a unirci, amalgamarci e a dare spettacolo al palazzetto. Mi ho dito.